Cosa senti personalmente quando sei qui in questo posto speciale? Che cosa ti rende della tua anima questa cosa? Felicità che sono con il mio papà. She feels extremely happy because she feels she is with her father again. Anche se non l'ho conosciuto ma l'ho sempre desiderato. E qui mi sento arrabbiata, angosciata e felice. She has never met her father but she has always wanted to meet him. And she feels extremely happy and angry at the same time. Would she like to give a message to young people? Che messaggio vorresti dare ai giovani per queste cose? Che non facciano la guerra che fa tanto male. Never to do wars again, because war ruins people. Amore Pasi. She wants to be there to be love and peace for the future. And she wants to be there to be love and peace for the future. And she wants to be there to be love and peace for the future. Yeah. And she wants to be there to be love and peace for the future. Autore dei sovrapposti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.